Nel 1974, in Porsche, comincia l'era turbo della produzione di serie. Offrendo prestazioni ancora mai raggiunte, la 911 Turbo entusiasma il mondo intero e diventa il sinonimo della vettura sportiva per eccellenza. Sotto lo spoiler posteriore della 911 Turbo di seconda generazione è impiegato per la prima volta un intercooler. A partire da questo momento, lo spoiler posteriore pronunciato diventa il tratto distintivo della 911 Turbo. La 911 Turbo di terza generazione garantisce emozioni forti. Già a 2.500 giri minuto, offre una copia di 400 Nm. La 911 Turbo di quarta generazione allarga ulteriormente i confini del fattibile. Una sovralimentazione bi-turbo assicura una distribuzione della potenza ancora più dinamica e magistralmente trasferita sulla strada dalla trazione integrale utilizzata per la prima volta nella 911 Turbo. La 911 Turbo di quinta generazione non solo appartiene alle vetture più veloci e potenti del suo tempo, ma grazie ad una tecnica avanzatissima come quella del Vario Cam Plus è anche la vettura sportiva più pulita al mondo. Nella sesta generazione delle 911 Turbo viene introdotta per la prima volta la turbina a geometria variabile, VTG. Una rivoluzione del turbocompressore per una maggiore potenza, maggiore coppia e minori consumi. La nuova 911 Turbo è il conseguente perfezionamento di questo capolavoro e il nostro parametro di riferimento di ciò che è tecnicamente possibile realizzare. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.